Sì, è una bella palla di fattori per Bostini, la schiacciata. Il volume parziale che adesso davvero benificati da lui, ma subito veniamo tacitati da questo numero di ori che in traffico schiacca. Palla aperta per Zucca, Zucca può andare a schiacciare! Dario Zucca! I due di quelli di questo quarto quarto in portata chiamorosa, Giavonte Guim, e la Bibane, il contropiede che va nel più cinque Trieste! Altro caso di tutto rango, ma si si è accattolato in difesa, rischia di perdere la palla nei fioda, la schiacciata! Sì, fino a questo momento non ha comparso nella partita, Chiumenti va a pescare il stadio di Gerai Grant! Stato spettacolare assist! Liderardo Sabatini per John Brown! Siamo un po' addormentata in questo ultimo frangente, 62-63 per Greener, che azione, Fernandes to Greener, mamma mia! Corbet per Amoroso, bel duello contro Lupusor, Amoroso scarica per Power, che fa esplodere il Palazzadelli! Grazie per la visione!